Il 21 giugno è San Luigi, il mio no massimo è l'inizio dell'estate, finisce il coprifuoco, quindi speriamo che sia di buon auspicio per tutti. Dobbiamo essere sempre attenti, guardinghi, misurati, ma credo che sia giusto che si riprenda a vivere con le relazioni umane, sociali, culturali, professionali, sportive, tutto ciò che ci mancava. La città sta reagendo, sta cominciando nuovamente a ospitare turisti e visitatori, noi stiamo facendo un grande lavoro in condizioni difficili, personalmente non distratto da nulla ma sempre sul pezzo perché questa città merita l'attenzione massima che io darò fino all'ultimo giorno del mio mandato.